buongiorno buon pomeriggio buonasera benvenuti su extinction ebbene sì il mio primo transfer cosa sono dovuto fare qui fondamentalmente a fare una prima mini base tanto per iniziare a possibilmente trovare un drop di quelli come si dice di quelli orbitali e a cercare cose visto che su ragnarok il si dice il pelagornis non funziona cioè non si riesce a farlo volare sono qui che sono interessato a vedere no vabbè se qualche altra creatura volante può invece fare il il suo lavoro e a cercare adesso c'è tutta roba di livello assolutamente tremendo nei paraggi ma sto ecco quello già un un pteranodonte usufruibile perfetto e perché sto cercando un esecutore ho già già fatto perfetto sto cercando un esecutore e altre e altre e altre creature da da e altre creature da come si dice domare più che altro sono molto interessato ad andare a prendere un velonasauro però prima voglio risolvere il problema dei tutta gente di livello bassissimo su questa mappa voglio risolvere il problema del non si trova gente con cui volare siete andate a prendere la carne che bravi che siete andate ad ammazzare anche quello perché è un volante con cui volare in giro è indubbiamente una cosa decisamente utile e poi la mia raptor squad sta decisamente facendo il suo lavoro come si deve c'è solo un grosso bug enorme che ho notato le unità di difesa sono invisibili ci sono ti attaccano ma sono per il resto completamente impossibili da identificare è incredibile quindi tu non hai la carne tu ne hai poca tu anche ne hai poca mi sa che avevate un po' di fame piccini miei ma e per fortuna qua è pieno di robetta da ammazzare quindi non dovrebbe essere troppo difficile trovare altra carne perfetto noi ci rivediamo più tardi appena è tutto pronto per essere per il primo volo ecco questo è il motivo per cui le unità di difesa sono assolutamente terrificanti quando sono invisibili ne sono spuntate due dal nulla di cui una di livello 162 cavolo 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 ok Ok, bellissimo Tu mio caro sei la mia Ultima speranza Sembra Assolutamente meraviglioso La cosa invisibile Sì Assolutamente meraviglioso Maledizione Adesso devo riuscire a tornarmene A casa Perché tutto questo A sto punto è impossibile Domare Qualcosa Sono completamente da solo Non ho Niente per farmare O ritrovo quell'opteranodonte di livello 6 Che ci ronzolava nei paraggi Che francamente avrei dovuto Domare subito O sono Sono senza volanti E senza raptor Oh maledizione Che scatole Ok Oh Maledetta Maledetta Ok Siamo nel bel mezzo Di una Pioggia di meteore Ma Ho un piano I raptor Sono deceduti Non trovo Altri carnivori Da nessuna Maledetta parte Non posso Vedere I Le guardie Le unità Di difesa Il che è assolutamente Meraviglioso Che attaccano indiscriminatamente Qualsiasi creatura Che trovano E assolutamente Fantà Maledetti Insetti Insetti Ma Sono anche risalito di livello Perfetto Devo iniziare a livellare Un po' di velocità Di movimento Da quanto Questo è quanto Sono messo male Io Oh mio dio Comunque Ho un Una creatura Qua Che forse Riesco A Domare Quello è un altro Pachirimosauro Ovvero Quel trike Au Maledetti Insetti Che mi rallentano Ok Più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Ah Corri Ok Ok Allora Smesso di essere interessato Per fortuna Ti prego dimmi che riesci a infilarti nella trappola Dai Entra dentro Non c'entra Maledizione Niente per niente Ah Tasto sbagliato Oh mio dio C'è anche un volume altissimo Mi regolo il volume delle cose perché mi sta assordando Ok Allora Ok Tanto che sei distratto Per fortuna so che Ho controllato il nododex ovviamente Non vogliono molte Né bacche né frecce C'è anche un 174 che mi Era Non indifferente ma C'era un carnotauro nei paraggi che non so dove cavolo sia finito Non voglio che scappi troppo Sì Vabbè se i colpi almeno avessero effetto Oh mio dio Non andare di qui che c'è A parte un altro trike No 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 Bravo vai nell'altra direzione Oh mio dio Ancora non ricarica Quello di cui ho paura sono le unità di Di difesa perché Oh meno male è andato giù Perché non le posso vedere Non ha minima idea di dove sono perché sono invisibili Qua potrebbero essere ovunque Comunque sono riuscito a buttare giù il triceratopo Ho anche controllato su Dododex Che dovrei avere abbastanza bacche E ha bisogno di un solo narcotico per restare giù Quindi posso tranquillamente Riempirlo di tutte le bacche che ho E possibilmente anche qualcuna in più E dovrebbero essere sufficienti E dovremmo Sì Con questo dovremmo essere a posto Sperando che non compaia gente invisibile Oh no Sta colpendo il mio trike Dimmi di no Ok Ok un livello 24 Solo che non ho Eh C'è un C'è un'unità di difesa E sembra anche bella potente Ok Ok, sembra che lo abbia distrutto Meno male Meno male Ok Se riesco a prenderlo è una gran bella cosa, davvero Ci rivediamo appena... Appena si è svegliato Ed ecco qua che uno dei primi giocattoli di Extinction E' finalmente a disposizione, signore e signori Lo Scout E' un pelo pelo pego baggoso Ma è un robottino di esplorazione Con X si zoom Con L1 si va da prima a terza persona R2... Ah sì, questo serve a... A marcare le creature Vedete? Adesso questa creatura è marcata E posso sapere dov'è in ogni momento Poi vediamo un po'... Quadrato non fa niente Triangolo esce Poi... L1, no? R2 è un dash L2 e R3 e R3 non fanno niente Eccetto attivare o no il dash E questo è un ottimo modo per esplorare i dintorni E identificare le creature che ti interessano Perché poi puoi anche semplicemente stare a guardare il loro livello E' anche abbastanza veloce Consuma polvere di elemento Per muoversi e fare... E fare tutto E ti indica quali sono le creature aggressive Come potete vederlo Le creature aggressive Sono in rosso Uh, sì sì Gli scout hanno un raggio d'azione relativamente limitato Che dipende dal loro livello Questo è poco migliore di un... Di un livello 1 Comunque come potete vedere Anche creature che sono quasi... Invisibili o difficili da vedere Si... Trovano facilmente Allora, lì stanno combattendo contro... Degli scorpioni Lì c'è un altro Rex Questo dash infligge anche una piccola quantità di danni E comunque si può muovere destra, sinistra E' solo su e giù che sono un po' difficili Però... Vediamo un attimo Te, che sei vicino Perfetto Marchiato Ora, uh mamma Ora, se non sbaglio E cerchio per richiamare... No, cerchio per il mio Infatti lo si vede lì E lì c'è il segnale di dove è il triceratopo che avevo... Dove sono le creature che avevo marchiato Ora, non mi ricordo Ah ecco Se premi R2 Richiami lo scout E' molto carino Soprattutto utile per esplorare zone senza essere te in prima persona Questo affore qui lo userò tantissimo Infatti prima di tornare su Ragnarok Cosa che farò dopo aver finito di domare questo triceratopo Perché qua ho bisogno di... Con il problema dei... Dei... Come cavolo si chiamano più? Delle unità di difesa Che normalmente si trovano nell'arena del... Come si dice? Dell'overseer sull'isola Che non ti... Tu sei di livello molto basso? Sì Così provo a vedere Se per caso Si riesce a volare qui perché Quell'altro purtroppo è morto Ma questo qui Forse riesco a... Visto che è di livello molto più basso Forse riesco a domarlo con la carne normale Quindi... Beh Vediamo Speriamo bene Sì 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 Finalmente Oh Meno male Ok Neutrale Oh Finalmente Non devo più raccogliere a mano Adesso ho tutte le narco bacche che voglio Oh Meno male Meno male Meno male Meno male Si laga sempre in questi punti Perché deve caricare l'intera città Tu sei Ah Tu sei il 174 Quello che mi sarebbe piaciuto Oh Sì Tutte le narco bacche Oh Che meraviglia Ok Adesso tu non Non avrò più troppi problemi a mantenerti K.O. Fiu Ok Questa è una bruttissima C'è loco Poi E non male Il mio Bonus E questo è solo un livello 24 Oh Sì I Rex sono ottimi E lo si vede lì in alto La rivalità E' un bonus E' un bonus Gaitricerato piano Contro i I predatori Alpha Tipo Rex Simili Non è molto utile Dargliela Adesso La carne pregiata Ma Mi dirai Ogni Cosa E E bonus Oh Meno male Tra l'altro Questa affare qua Mi ha anche distrutto Il Lo scout Quindi prima di andarmene Dovo farne un altro Ah guarda quanta bella Pelle Dammi tutto Andiamo un po' Allora vediamo qualcosa di interessante Altre frecce Ah Io sono Ah risalito di livello Ah però continuiamo con la velocità Tanto non Tanto poi la tolgo Ok Vediamo un po' Se c'è qualche altro Uh Sì 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 Elemento E a sto punto Ah sì perfetto 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 Maledizione Ecco Frammento di elemento instabile Perfetto 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 Assolutamente perfetto C'è altra roba di qua Che voglio Imparare Non ancora Perché Non devo ancora farci niente Ok allora Fermo tutti Vediamo se Su di te Si può volare Dopodiché Fino a Vieni qua Ah Preghiamo 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 Alleggeriamoci Dimmi che almeno qua si riesce A volare Oh bello Oh sì 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 Qua si riesce Ok Volare si riesce Finalmente Una buona notizia È pieno di livelli 108 Qua nei paraggi Perfetto Finalmente qualcosa di buono Abbiamo un volante Che vola Abbiamo un triceratopo Che spacca i culi E adesso Siamo pronti Per tornarcene Su Ragnarok Io vi saluto E ci rivediamo Alla prossima Ciao